Alle 10 persone che vorranno diventare socio sostenitore a livello re di Murasaki, versando per la nostra campagna 250 euro, Oltre a tutti i benefici e i privilegi degli altri livelli, sarà reso possibile incontrare di persona in un incontro esclusivo la regista ospite dell'Ottobre Giapponese 2022, Konami Anno. Konami Anno, una giovanissima ma già acclamata regista, è stata candidata per il Giappone agli Oscar 2022 nella categoria cortometraggio di animazione. Ed è stata anche l'autrice di uno dei corti che nel 2021 hanno portato assieme la nostra tradizione e la cultura italiana, in particolare la Lina Commedia, con la sensibilità orientale. Il suo cortometraggio è stato uno tra i più graditi dal pubblico e quindi c'è sembrato oltremodo opportuno invitarla quest'anno. A chi diventerà socio sostenitore lei di Murasaki sarà quindi data l'opportunità di incontrarla di persona in un incontro esclusivo. Grazie. Grazie.